Il primo giro è di andata. Spero di spiegare i campionati, perché alla fine l'impostante sono i 2-8, è lunga ancora. Posso dire che questa è stata la migliore partita con quella di busto del vostro campionato? O non ti piace fare questi tipi di campionati? No, no, non è anche perché dall'altra parte abbiamo scoperto che abbiamo di voto in l'anno. Tutte le vittorie sono fatte. C'è Novara, intanto ci riposiamo un attimo. Ci riposiamo un anno.